Salve amici siamo giocatori per caso Nelle ricompense chiave di questa stagione C'è una sfida Distruggi strutture suddivise in 20 fasi Ogni fase dà 7000 punti esperienza Per un totale di 140.000 punti esperienza E se noi vi facessimo vedere Come fare tutte le 20 fasi In meno di 5 minuti E farvi 140.000 punti esperienza Non sarebbe fantastico? A Canyon Condominiale c'è uno di questi nuovi car armati Che è bellissimo In realtà ci sono anche in altri posti Non è un problema Nel momento in cui salite sulla torretta La guardia viene fuori per spararvi Io sono entrato di nascosto Diciamo spostandomi dalla postazione E sto sparando le guardie che sono fuori Adesso scendo e ammazzo la guardia che c'è sopra Se la trovate già senza guardie È ancora meglio Se no fate come sto facendo io State sulla torretta Quando la guardia a un certo punto esce Perché non vi riesce a colpire Voi la eliminate A questo punto potete tranquillamente Riprendere il controllo del cararmato Se il cararmato è rotto Potete saldarlo con la nuova torcia Quella per riparare E in questo caso addirittura Gli ricrescono i cingoli come per magia Guardate che roba Incredibile E il cararmato torna ad essere nuovo Così lo possiamo utilizzare A questo punto ci tocca fare la sfida Distruggi strutture Voi distruggete qualunque cosa Perché ho detto il cararmato? Perché non lo ferma niente Guardate che roba Voi distruggete tutto E state tranquilli che quando avete distrutto le fondamenta Tutta la casa cade E vi dà tutta la casa come una struttura Per cui ci mettete veramente poco a fare la sfida Guardate in alto a sinistra Sono già 400 di 500 E sto andando avanti Adesso io continuo a distruggere tutto Se volete fare più casino Sparate anche Non c'è nessun problema Ma intanto continuate a distruggere Guardate altre 100 di strutture distrutte Guardate che roba in alto a sinistra Io intanto continuo Distruggo tutto E salgo di livello Altre 100 strutture già distrutte Andiamo avanti Spariamo col cannone Come se non ci fossero domani Sono già 600 di 700 Distruggiamo anche qua Spacchiamo le case Qui veramente il carro armato È una macchina da guerra mostruosa Guardate Sono già 700 di 800 Avete visto quante cose ho già fatto Sono già la settima fase di 20 In un attimo Quanto ci ho messo? Pochi minuti? Intanto continuate a distruggere Questo è veramente il modo più veloce Altri 100 strutture distrutte Un'altra fase finita Qui avete soltanto l'imbarazzo della scelta Della verità E potete distruggere tutto quello che volete Qui a Kenyon Condominale Mi sono trovato bene Ho sparato tutto Ho provato anche a sparare la dirigibile Che sta in alto Però senza tanto successo Sono riuscito solo a distruggere un cannone E intanto sono già 9 di 10 Anzi 9 di 20 scusate Tra l'altro il carro armato Si muove bene anche in acqua Bene Se voi fate questo sistema Adesso non la tiro più di tanto per le lunghe Avete visto che è veramente Veramente semplice Distruggere le strutture Sono già 10 Incarichi fatti 10 fasi finite Quindi se ne sono in tutto 20 Quindi la mia promessa è mantenuta Meno di 5 minuti Per fare tutto quello che vi serve Ovviamente sono tantissimi punti esperienza Perché 140.000 punti esperienza Sono più di due livelli Infatti in un attimo Sono già a 1100 Quindi 11 11 incarichi E intanto io continuo Distruggo tutto Quasi passo anche sulla macchina più tardi Guardate che roba Anche i muretti Qua una volta c'era una città Adesso non è più rimasto niente Sto distruggendo tutto Non sapete che bello è Che poterlo fare Però quello non posso distruggerlo Bene Se guardate in alto a sinistra Sono già a 12 Sono a 1200 In un attimo Quindi 12 incarichi fatti Voi continuate così fino a 20 E in bocca al lupo Spero di esservi stato utile Se questo video ti è piaciuto Metti un pollice in su Che per noi è un gesto bellissimo Iscriviti al nostro canale E attiva la campanella Per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche E attiva la campanella